Buongiorno, anche oggi facciamo i messaggi dall'Arcangelo Gabriele. Allora, il messaggio è Guida Divina Il cielo sta inviando le risposte alle tue preghiere Questa carta ti chiede di prestare attenzione ai messaggi e ai segni ricorrenti che ti giungono Fidati di loro e seguili I messaggi che ti chiedono di compiere un cambiamento positivo provengono direttamente dal cielo E spesso sono la risposta alle tue preghiere Se non sei sicuro che un messaggio sia veramente un segno divino Chiedi al cielo ulteriori messaggi come conferma Quando segui la vera Guida Divina il tuo cammino è armonioso, piacevole e sicuro Questo è il messaggio di oggi Vi auguro una buona giornata